Salve a tutti gente, io sono Mami007 e oggi siamo ritornati su FIFA 16 con un nuovo appuntamento del Big Match e siamo con l'Aventus ovviamente e siamo conto in Napoli Vai! Vai! One! One! Attenzione! No! Nostra! Nostra! Con calma! Ma va bene, vai Gigi! Lascia, va bene Ok Allora Ok, basso, ok Ok Ehi! No! 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 Oh mio Dio! Qua! Qua! Bellissimo! No! E' che tua! Grandissimo! Buon! Attenzione! Eh! Fatevi vedere! Bello! 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 Attenzione! Eh! Fallo! 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 Ci sta tutto! Oh! Posso tentare! Allora! Ecco! Bello! Un po' più in là! Va benissimo! Va bene! Va bene! Va bene! Ok! Ok! Oh mio Dio! Ah! Grandissimo! Non è fallo! Avvito! Ok! Dai! Ce la possiamo fare! Vai! No! Si! Va bene! No sta! Che rischio! Fatevi vedere! Ecco! Grande pole! Ehi! Che schifo di Dio! Da da! Va benissimo! Va benissimo! Benissimo! Fatevi vedere! Non posso fare tutto io! Fatevi vedere! Bello! Benissimo! Vai! Che ci hanno... Eh! Volevi! Eh! Eh! Sì! Madonna! BOOM! Va bene! Uff! No! Uff! 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 No! Uff! 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 Tua! Be... Benissimo! 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 Attenzione! Allora! Dalla! Benissimo! Grande! Vai! Avanza! Grandissimo! Bello! Super! Super! Epico! A parte te! Mando! Vabbè! Va bene! Dai che ti giudo la palla! Uah! No! Va bene! Va bene! Va bene! Guarda! Uah! Sto arrivando! Grandissimo! Mandzukic! Va bene! E' del gol! E' del gol! E' del gol! Mario Mandzukic! Attenzione! Che golascio ragazzi! Che anzi! Che azione! Attenzione! Morata! La da filtrante! Per Mario! Che fa gol! Ed è in vantaggio! La Juventus! Dell'allenatore! Emanuele Lorenzani! Sì! Grande Mario! Grandi tutti! Sto arrivando! Uah! Uah! Dai! Va bene! Va bene! Ragazzi! Fine primo tempo! Juventus 1! Napoli 0! Ci vediamo al secondo tempo! Ok raga! Iniziato il secondo tempo! Dammi la palla! Dai! Dai! Vai Mandzukic! Va bene! Gigi! Sicuro! Grandissimo! Vai Paul! Grande Paul! Grandissimo! Attento lì! Eh! Lo sapevo! No! Sì! No! Grandissimo! Grandissimo! Epico! Ancora poi! Ah! Lo fai apposta! Vabbè! Eeeh! Ah! No! Aia! Invece attenti! Tutti in mezzo! Anch'io! Se cosa volevi fare? C'è Gigi in porta! Au! Grand... Nostro! Cosa loro? Eh! Tu sei fuori arbitro! E' pagato! E' pagato! E' pagato! E' pagato! Gli va bene! Vuoi fare la fin... Uff! Madonna! Ok! Vai Alex! Che sei quasi libero! Oh! Morata! No! No! Dai! Dai! Grandissimo! Va bene! Ok! Ma ci... Grandissimo! Ah! Va bene! Va benissimo! Va benissimo! Basta che l'abbiamo recuperata! E dopo siamo a posto! Bene! Bene! Eh! Voleviamci! Che attenzione! Finta bella! No! No! Machisio! Fuori! No! Ah! No! Facci! Facci! Di fisico proprio! Dai Morata che ce l'hai! Fuori gioco! Abito! Ok! Nostra! Ok! Dai! È nostra! Ha sospitato! Caleron! Aiuto! Eh! Ma fatemi vedere! Grandissimo! bello va bene ok cambia fascia bello bellissimo no grande vai grandissimo o fallo avuto una donna sei pagatissimo te quanto ti pagano 100 milioni no è fuori si si allora tutti su vai manzuchich che sei alto lo sapevo che ha becca di grande manzuchich uomo partitai però è fallo ecco bravo bravo guadalinea e alghito va bene va bene va bene va bene ho visto non mi interessa fatto farlo pure ok va bene ma io non so se buttarla in mezzo o passarla a quadrado passo a quadrado attenzione one one madonna scatto e fallo ma cosa madonna guarda forse sei anche infortunato abito c'è da io però ma fallo netto madonna la raga calcio d'angolo per noi tre minuti di recupero no 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 dai va bene va bene va bene va bene va bene oh no no stava benissimo la sua pò di te lo scapita mi interessa per ciò che chiaro a quadrado a quadrado a quadrado mezza c'è tra più fortísimo Da vicino Da lontano invece Eh sì rega Eh sì Questa qua la andiamo a vincere Spero che questo video vi sia piaciuto Lasciate dei like Commentate, iscrivetevi al canale E ciao a tutti